Samuel Peron, uno dei grandi protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ha sfiorato la vittoria finale classificandosi al secondo posto. L'artista, noto per il suo ruolo storico in Ballando con le stelle, ha recentemente rivelato in un'intervista i momenti difficili vissuti durante il reality show. La sua esperienza, sebbene non abbia segnato record di ascolti, ha lasciato un segno profondo nei cuori dei telespettatori che si sono affezionati a lui. Nato a Marostica nel 1982, Samuel Peron ha iniziato a ballare giovanissimo. Ha soli quattro anni, esplorando diversi generi, dal ballo liscio alla danza moderna. Da bambino, ha partecipato a Sabato al Circo nel 1991 con Cristina Davena e nel 1992 a Bravo Bravissimo con Mike Bongiorno. La popolarità è arrivata grazie a Ballando con le stelle, dove è entrato a far parte del cast nel 2005. La sua carriera si è poi estesa al teatro, con musical come La febbre del sabato sera e Tango d'amore, oltre a lavorare come attore in un caso di coscienza 5. Peron è anche titolare di una scuola di ballo in Sicilia e per due anni è stato ospite fisso di oggi un altro giorno di Serena Bortone.Dopo oltre 15 anni nella trasmissione di Mili Carlucci, Samuel ha sentito il bisogno di esplorare nuovi orizzonti professionali, decidendo così di partecipare al survival show Isola dei Famosi. Questa scelta ha suscitato discussioni, soprattutto perché Mili Carlucci non è particolarmente entusiasta dei reality show. Samuel ha rivelato che un ritorno a Ballando con le stelle è oggi improbabile, ma ciò non significa che le opportunità manchino per lui.Durante l'intervista, Samuel Peron ha stupito i fan con una rivelazione sui suoi esordi, ero timidissimo, mi presero di peso e mi buttarono in pista. Fu tragica. Questa confessione ha mostrato un lato vulnerabile e autentico del ballerino, che ha saputo trasformare le difficoltà iniziali in una carriera di successo.Le voci di corridoio suggeriscono che Samuel Peron potrebbe essere il prossimo a prendere il posto di Raimondo Todaro ad amici di Maria De Filippi. Il rapporto teso tra la conduttrice e il maestro di latino americano potrebbe infatti favorire Peron, offrendo al pubblico un cambio di insegnante che molti spettatori accoglierebbero con entusiasmo.Samuel Peron ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per affrontare nuove sfide. Che si tratti di reality show o di nuovi progetti televisivi, il suo futuro sembra promettente. La sua esperienza all'Isola dei famosi ha evidenziato non solo le sue capacità di adattamento, ma anche la sua capacità di conquistare il cuore del pubblico. Rendendolo una figura amata e rispettata nel panorama televisivo italiano.Con l'attesa che cresce per la prossima stagione televisiva, i fan di Samuel Peron sono ansiosi di vedere quale sarà il suo prossimo passo. Riuscirà a diventare il nuovo volto di Ami? Non resta che attendere e vedere quali sorprese ci riserverà il talentuoso ballerino.